In collaborazione con Coverfop abbiamo pensato quest'anno di trovare un nuovo modo di raccontare le nostre opere. Abbiamo lanciato una sfida agli allieve del corso per estetiste. I tanti volti presenti al Museo Borgogna sono diventati per loro un nuovo modello per creare e fare esperienza con i trucchi. Ecco che allora racconteremo sì la storia del dipinto ma soprattutto saranno le ragazze a raccontare il loro lavoro praticando direttamente e anche raccontando a neofiti che cos'è un trucco, come si fa un maquillage e soprattutto come lo si realizzava a partire dal quattrocento perché a quell'epoca appartengono le prime opere da noi insieme a loro scelte. Le allieve abituate ad analizzare e a riprodurre maquillage dagli anni venti alla contemporaneità hanno avuto modo di cimentarsi con il passato e di dare forma ad un utilizzo per noi nuovo degli stessi strumenti che gli artisti hanno usato per dipingere le opere, pennelli, colori, coprenti e quindi un nuovo modo di leggere i colori non solo sulla tavola ma sulla tavolozza che le allieve useranno per le loro modelle.